E' stato inaugurato questa mattina nel complesso ICEA a San Salvo Marina il Parco dei Bambini e dello Sport dedicato a Emiliana Colitto, vittima di un incidente stradale a Milano il 21 settembre del 2018. L'amministrazione comunale ha sistemato un'area verde di 5.000 m2 allestendola con un'impiantistica di ogni tipo in grado di fornire luoghi di svago a grandi e piccoli. Sono stati realizzati due campi polifunzionali per calcetto e tennis con manto in erbetta sintetica e il secondo dove si praticherà il basket e la palla a volo. Un intervento pensato l'amministrazione Magnà che è da noi realizzato, ha detto il sindaco, rende più accogliente questo quartiere davvero speciale a ridosso del mare e immerso nella natura dove i bambini possono passeggiare per strada in tranquillità nel ricordo di Emiliana Colitto che ha vissuto a poche centinaia di metri a questo luogo. Emiliana non è figlia solo di questo quartiere ma rappresenta tutti i giovani della nostra città, un simbolo di speranza, di forza e di futuro. Un quartiere che diventa il segno dell'accoglienza, ha aggiunto ancora il primo cittadino, dello sport e della vita. Lo sport è la più potente arma per la socialità ed è per questa ragione il nostro impegno è investire nello sport creando dei luoghi di aggregazione. È intervenuto anche il Presidente del Consiglio Comunale Tiziana Magnaca che è stata sindaco per due legislature alla quale si deve proprio la realizzazione di questo progetto, quanto è stato realizzato, ha detto dà senso a tutto il nostro lavoro e della migliore risposta alle polemiche gratuita, alle quali non abbiamo risposto, forti della bontà delle nostre scelte perché ritenevamo che fosse giusto realizzare quest'opera in questo quartiere. Infine i genitori di Emiliana, Maurizio e Alida del Villano, il fratello Pierluigi, hanno ringraziato i presenti, siede tantissimi e la cosa ci rende veramente orgogliosi.